Ciao a tutti ragazzi, sono Aide, come vedete torno con un nuovo video e oggi dopo il video della reazione ai fail con il cubo di Rubik voglio invece adesso guardare insieme a voi il record con il cubo di Rubik chiaramente guarderemo il record del cubo classico 3x3x3 ma pensavo di guardare anche il 2x2x2, il 4, il 5 e poi quelle discipline più particolari tipo il cubo con una mano, il cubo bendato insomma vedrete nel corso del video e basta direi di iniziare, io molti di questi non li ho ancora visti perché avevo magari visto dei record anni fa ma ora ce ne sono di nuovi aggiornati quindi sono curioso anch'io ho chiaramente un po' paura perché raga sono dei fenomeni vedrete ci sono dei numeri che non hanno senso proprio ok raga direi di iniziare con il record del 2x2x2 che è il cubo più piccolo e lo dice già il titolo il record è di 0.49 vediamo, questa è l'inquadratura è quello che è perché non sapeva di fare il record chiaramente lo sta ispezionando ho pulito raga 0.49 cioè meno di un secondo, meno della metà di un secondo ma cosa vuol dire? niente è impazzito, è esploso, la gente applaude bestia, bestia chiaramente però qui ci stiamo ancora scaldando cioè chiaramente è fenomenale però vedrete che ci sono ancora dei numeri più assurdi ad esempio andiamo subito a uno dei migliori ovvero al record attuale del 3x3x3 ovvero il cubo di rubik classico è il record più ambito, più famoso e quello in questione è di 3.47 secondi vi dico una curiosità se vedete la qualità di questo video, l'inquadratura di questo video è come se fosse preso da una telecamera di sicurezza questo perché nessuno stava filmando le sue risoluzioni perché nessuno si aspettava che potesse fare il record per farvi capire solitamente quelli molto forti si mettono sempre una videocamera di fronte perché vogliono registrare tutte le loro risoluzioni e chissà mai magari ogni tanto fanno anche dei record questo invece ha fatto il record ma non se lo aspettava, non se lo aspettava nessuno guardiamola insieme e adesso sta ispezionando come sembra, ispezionando vuol dire che guarda quello che deve fare prima di iniziare ora inizia 3.47 sentite ora tutti se ne accorgono stra in ritardo perché nessuno se lo stava cagando e tutti a fotografare raga, assurdo cioè 3.47 secondi raga non ha senso, è un numero che non ha senso bravo, fortissimo niente da dire, è attualmente il detentore perché è difficile scendere lì sotto in gare ufficiali bene ma continuiamo ad esempio ora andremo a vedere il record del 4x4x4 quindi un cubo un po' più grande chiaramente il tempo è un po' di più l'attuale record è di 17.42 quindi vediamo ok ad esempio questo si sta inquadrando magari un canale youtube dove mette le risoluzioni quindi documenta tutto quello che fa appunto in questo caso ha filmato anche un record come stiamo spiegando stai ora ispezione al cubo quindi hai un tot di secondi per vedere com'è il cubo e decidere come partire quando sei pronto appoggi il cubo appoggi le mani appena le stacchi parte il timer questo raga ci mette 17 secondi quindi è pauroso vediamo a me piace sempre vedere il dopo cioè la gente che se ne accorge e urla questo non l'ho mai visto veramente è impazzito la gente se ne accorge guarda e tutti applaudono reazione onesta cioè ha fatto più reazioni lui degli altri bravo 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 adesso andiamo al record 5x5x5 quindi un cubo più grande e il record è del famosissimo Max Park per chi non lo conoscesse è uno proprio di quelli più in alto nell'ambito speedcuber sia perché è bravissimo sia perché si è creato comunque un personaggio e quindi anche uno dei più famosi in quell'ambito e dovete sapere raga che lui ha una forma di autismo sicuramente questa cosa l'ha fatto incanalare in quella che è la risoluzione del cubo vabbè c'è tutto un documentario su di lui che vi consiglia su netflix dove viene raccontata tutta la storia comunque non prendiamo tempo vediamo il 5x5x5 anche questo video raga non l'ho mai visto sapevo del record ma non ero mai stato a guardare tutto il video lui è davvero una macchina raga lui è proprio un computer in testa ha un computer quindi parte 5x5x5 cioè per farvi capire è proprio un cubo enorme chiaramente lo capite anche voi 25 cubetti per faccia e ci mette comunque un tempo che insomma è un tempo medio per chi risolve il cubo di rubik in modo amatoriale capito magari anche un po' veloce eccolo c'è quasi c'è quasi oh oh boh meno di 35 secondi la gente in pasticce saltano lui stragasato bravo max poi guardate che finisce ed è già lì che muove un altro cubo complimenti complimenti fortissimo niente da dire cioè raga sono tutti dei fenomeni quindi il mio commento sarà chiaramente sempre che sono tutti dei fenomeni ora vedrei insieme a voi un altro record molto interessante che è il record con una sola mano e anche questo è di max park quindi lo guardo subito filato così sappiamo già chi è lo guardiamo subito insieme c'è poco da dire un 3x3x3 risolto con una mano e il tempo in cui lo fa fa paura quindi vi lascio guardare e tra l'altro è bello la disciplina del one handed cioè una sola mano perché puoi appoggiarla comunque al tavolo per avere stabilità l'importante è usarne sempre solo una non attaccare mai l'altra guardate com'è tac vedete usare la cosa per aiutarsi e ci mette solo 6.82 secondi cioè raga ci ha messo un tempo che è buono anche per una risoluzione 3x3x3 per farvi capire normale qui niente fenomeno grande max altro record mondiale niente da dire e chiaramente tutti applaudono ma continuiamo ora voglio vedere un altro record molto curioso insieme a voi che è il blindfold dovvero cubo di rubik bendato e raga a me questo sinceramente fa paura perché ci mette pochissimo e dovete sapere che il blindfolded non è solo il tempo che ci metti appena ti bendi ma è il tempo in cui lo ispezioni quindi in cui capisci come andarlo a risolvere da bendato più il tempo che ci metti da bendato l'unione di questi due tempi fa il tempo complessivo non vi voglio spoilerare quanto ci mette raga direi di partire non vi voglio spoilerare nulla cioè fidatevi che è allucinante vedete il tempo inizia già e lui sta già ispezionando quindi cioè capite tutto insieme boom ha iniziato partito ci ha messo 6 secondi di ispezionarlo ora più o meno pronti? raga per me è impressionante per me questo è uno dei migliori 15.5 secondi per risolverlo bendato considerando sia l'ispezione che la risoluzione quindi ci ha messo 6 secondi di ispezionarlo e 9 a risolverlo da bendato pauroso raga sta roba a me fa paura quindi bravissimo bravo 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 solo applausi ma ora ne voglio vedere un altro il penultimo della puntata di oggi ovvero il multi blind multi blind sarebbe quanti ne riescono a risolvere da bendati nell'arco di un'ora non però ogni volta ispezionandoli e facendoli cioè tu li ispezioni una volta sola ti bendi e da lì parti a farli tutti cioè per me questa cosa è pazzesca altro dettaglio tu devi dichiarare quanti ne farai quindi tipo tu puoi dire ne farò 34 e deve arrivare a 34 ne farò 50 cioè devi dichiarare quanti sono questo record in particolare di graham siggins è di ve lo dico già raga 59 su 60 cubi cioè quindi lui aveva dichiarato 60 cubi e ne ha risolti 59 non ce lo guarderemo tutto anche se è velocizzato però voglio solo vedere i momenti fondamentali quindi quando li ispeziona ecco raga lui se li divide in un certo modo raga sono tantissimi sono 60 e inizia a dispezionarli tutti vedete allora è velocizzata la memorizzazione lui se li memorizza tutti ora schippiamo un po' ok ora ha iniziato la risoluzione li ha spezzanati tutti vedete li ha divisi in gruppi di 8 così 56 60 esatto e inizia a risolverli e raga lui da ora non guarda più cioè lui da ora non guarda più niente ha tutto lo schema mentale vedete continua è paura raga vi giuro a me davvero fa paura sta roba c'è chi dice che col blindfold anzi con il multi blindfolded a salire di numeri in realtà è quasi più semplice che risolverne solo uno per capirci cioè ovvero che una volta che tu sai il sistema di uno si tratta solo di immagazzinare più dati ma in modo super schematico che tra l'altro ora vi spiegherò volevo solo farvi osservare che c'è già quello che ha sbagliato l'ha sbagliato quasi subito quindi non è neanche sbagliato uno alla fine cioè ha sbagliato uno all'inizio comunque il metodo mentre lui risolve per farvi capire è quello probabilmente dei loci del palazzo della memoria lui secondo me si immagina un percorso mentale ad esempio che ne so casa sua più casa di un suo amico più casa di sua madre qualunque cosa e lui si immagina in ogni stanza di avere un cubo da dover risolvere si immagina la sequenza di mosse da dover fare che spesso è una sequenza di lettere aspettate che quasi alla fine guardate che ansia l'ultimo sta tentennando chiaramente sei il sessantesimo vai che ce la fa vai 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 no raga che mostro tranne uno raga li ha fatti tutti vabbè per finirvi di dire praticamente vi dicevo che appunto con questo sistema dove lui si immagina di camminare in una stanza in una casa il percorso che è abituato a fare ogni volta c'è una sequenza di queste lettere che spesso viene memorizzata con una serie di azioni che vedi che succedono e lui quindi se le ricorda tutti non sto dicendo che sia facile anzi per me è un casino c'è chi dice che con l'allenamento in realtà salire di numeri quindi arrivare dai 20 ai 30 non sia un distacco così difficile secondo me non sapendolo fare è pazzesco è assurdo ma vabbè voglio concludere con l'ultimo record questo per per i feticisti che ci stanno guardando è un'altra disciplina ovvero risolvere il cubo di rubic con i piedi e niente raga questo risolve il cubo di rubic con i piedi in meno di 17 secondi non so come cavolo faccia guardatelo sta usando i piedi non so è un misto tra senso non riesco a capire però comunque è fortissimo tac record mondiale fatto 17 secondi con i piedi ragazzi cosa vabbè concludiamo così questo era l'ultimo record che è assurdo questo fa sotto i 20 secondi con i piedi cioè io faccio fatica a fare sotto i 20 secondi con le mani quindi bravi bravo bravo concludo qua il video raga io spero che vi sia piaciuto se volete vedere altri record in futuro perché ci sono altre discipline altre tipologie di cubi magari mettete mi piace al video e scrivetemelo nei commenti io raga posso solo fare i complimenti a tutte queste persone che sono delle bestie cioè fanno davvero paura ogni record è più bello dell'altro io ammiro tantissimo queste persone che con l'allenamento la dedizione sono riusciti a raggiungere questi record detto questo ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video bella raga grazie a tutti